Ciao a tutti, oggi prepareremo il sugo tonno e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono scalogno, olio evo, burro, tonno sott'olio sgocciolato, brandy, pomodori pelati, mascarpone, sale, pepe e prezzemolo. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno. La facciamo dritare per 3 secondi a velocità 5. Veniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, l'olio, per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il tonno e cuocere per 3 minuti, 100 gradi, velocità soft. Aggiungiamo il branding, bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità soft senza misurino. Aggiungiamo i pomodori pelati. Aggiungiamo il mascarpone. Aggiungiamo il mascarpone. amalgamare leggermente con la spatola e cuocere per 4 minuti, 100 gradi, velocità soft. il sugo è pronto. Trasferiamolo in un contenitore e spolverizziamo con del prezzemolo tritato. sugo, tonno e mascarpone. Ideale per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!